cazzo prima di queste live ci prepariamo e questa è terapeutica c'è un brand di vasellina ragazzi benvenuti a tutti ciao a tutti come state bene non c'è male io sto facendo l'immagine di copertina sto ma va bene ma fantastica come al solito allora premessa noi siamo ancora in una linea temporale in cui si deve giocare turchia italia quindi non sappiamo cosa succederà se ci saranno novità ripercussioni legate alla juve la lasciamo da parte per il momento però c'è un'informazione seria e cioè da mercoledì quando uscirà questo video basta italia basta nazionale finita accantonato non andiamo al mondiale ok l'abbiamo smaltita e adesso c'è juve inter quindi da questo momento in poi ragioniamo su juve inter dove sei andato a prendere i fazzoletti per ciugarti gli occhi che non andiamo al mondiale no guarda ma aspetta stasera guardate la partita si guarda se la guardo è per sperare che non si spacchi nessuno io la guardo lo stesso sono la walk of shame di game of thrones io la considero una partita inutilissima però la guardo proprio perché soprattutto ottica mercato juve no ottica mercato juve dato che si sta parlando di zagnolo raspadore mi piacerebbe un attimo capire qualcosa di più su questi calciatori qua e anche scamacca stesso che era stato accostato ma vabbè sono dettagli proiettiamoci su juve inter invece ma per proiettarci su juve inter arriveremo a commentare delle foto arriverete a commentare delle foto perché questo video siete quei protagonisti e direi di iniziare subito da una foto in particolare che è questa la state vedendo riuscite a collocarla a livello temporale questa foto a udine anche perché l'unica dei di ronaldo di questa stagione si vede anche la bello sudacchiato quindi era sicuramente inizio stagione con quella maia là non poteva che essere udina cosa vi porta alla mente questa foto tra l'altro guardate ne approfitto che l'altro giorno avevo fatto la storia per tops ce li ho qua questa è la formazione ufficiale allegri vabbè scesni danilo delit bonucci alexandro quadrado bentancur ramsey bernardeschi dibala e morata questi erano gli undici più appunto ronaldo che abbiamo visto da subentrato siamo molto distanti da quella che è la juve di oggi cioè pensare anche solo bentancur ramsey al centrocampo più bernardeschi esterno che è uno di quelli che non rinnoverà dibala morata davanti insomma siamo su una juve che è vero è questa stessa stagione ma quanto siamo distanti da dal momento storico che stiamo vivendo adesso parliamo di quest'anno è di agosto settembre un altro mondo c'erano anche delle aspettative legate non tanto purtroppo al gamper dove eravamo presenti ma la parte contro l'atalanta sempre ritenuta comunque legittimamente negli ultimi anni una squadra top sempre lì dove ok che era un amichevole per testare il nuovo manto erbose tutto quanto ma avevi fatto una prestazione fantastica e poi sei ti sei svegliato sei passato nel mondo della realtà con un pareggio dove eri in totale controllo sul 2 a 0 ti hai fatto due cappelle pareggio qualche giorno dopo addio di ronaldo una settimana dopo 0 a 1 con l'empoli punti che inevitabilmente ti stanno costando ad oggi la corsa a scudetto col senno di poi tutt'altra juve tutt'altri interpreti fino a quel momento lì fino a quella foto lì tutt'altre speranze per la juventus del futuro e davvero sono i classici mesi che sembrano anni sono passati sei sette mesi e da quella foto di bala ronaldo non hai più ronaldo e di bala non l'avrai più cioè il mondo si è capovolto in sei sette mesi e la cosa assurda è che magari perché no in foto si poteva mettere anche un federico chiesa che doveva essere no questo qui l'anno della consacrazione definitiva dopo un bellissimo anno alla juventus un europeo magari un mondiale da protagonista che di fatto hai avuto ma non hai avuto che prima del crociato ne salta comunque dodici veramente è la classica foto che dici cazzo ma davvero sono solamente sette mesi fa mi pare un decennio al giungo per rincarare la dose che magari passa la pala a lello quella foto lì in quell'istante lì sono tre punti a udine con cui inizi la stagione vincendo è un episodio da var perché poi si è andati al var con un fuorigioco millimetrico che sono due punti che averceli oggi quei due punti poi non possiamo stare qui a dire mimo ma perché comunque è andata così quindi lo accettiamo però in quel momento lì tu inizi la stagione con la prima vittoria con dibale e con ronaldo e oggi lello invece ma oggi è cambiata tanto la juve ma è cambiata cioè l'avete detto voi a quel che avete detto voi aggiungo quante difficoltà ha passato questa juve io credo che queste difficoltà della juve con l'infortunio di chiesa con l'addio di ronaldo improvviso che comunque è un leader e carica la responsabilità morate di bala di sostituire quell'apporto che numericamente dava ronaldo ha portato secondo me delle difficoltà enormi c'è piano 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 la juventus ha dovuto affrontare secondo me delle difficoltà importanti al di là della qualità del gioco che è veramente discutibile e noi tutti abbiamo criticato la juve secondo me ha sopportato tanto cioè ha sofferto tanto determinate cose su di bala invece una scelta è cambiata tanto io però ti dico non giudico tanto la squadra in quel frangente e l'evoluzione giudicherò la società per capire con quale forza riesce a far fronte a queste difficoltà e secondo me l'acquisto di vlaudi c'è un'ottima risposta di prospettiva che lancia un messaggio chiaro e significativo così come sembra un'ottima risposta quella di di bala che per carità la scelta è discutibile o meno se accettare o meno il rinnovo di contratto per una scelta e quindi io vedo del decisionismo e in tal senso mi fa anche piacere vedere che probabilmente bernardeschi non rinnoverà e si andrà verso un altro corso perché la juve sta mutando più rapidamente di quanto mai avremmo sospettato a inizio campionato perché ci aspettava sicuramente un ricambio importante di calciatori secondo me stiamo accelerando quel tipo di processo e la cosa francamente mi fa piacere io mi aspetto quest'estate altre altri ingressi in squadra vado a memoria dovrebbe essere stato 25 26 agosto quella partita coludinese una roba del genere e c'è in quel momento lì c'è Ronaldo c'è Caio Orge perché è arrivato e c'è Locatelli sono gli unici due acquisti quindi non c'è Ken per forza di cose c'è Bentancur c'è Ramsey c'è Kuluseski non c'è Vlaovic non c'è Zaccaria e stiamo parlando di cinque giorni alla fine del mercato estivo dove non si è fatto nulla e dove si è sviluppato il mercato del futuro della juve tra gennaio e i rinnovi mancati di Dybala e ufficiosamente anche quello di bernardeschi che vanno a proiettare davvero la juve su un altro livello e su un altro piano rispetto a quello che perché inizio anno l'abbiamo detto tante volte questa è la juve di Pirlo senza Ronaldo con Locatelli e Ken a grandi linee era una roba di questo tipo e invece sulla carta sulla carta se geravano partiti con delle aspettative alte perché io io ho messo la juve in cima nei pronostici ricordo io avevo Ronaldo in testa nella juve quindi era tutta un'altra questione con Allegri avremmo trovato sicuramente una quadratura migliore avremmo secondo me reso di più la verità con un Ronaldo motivato poi non sappiamo dietro che cosa ci sia stato immaginiamo il classico Ronaldo che ha la juve lotta fa gol eccetera benissimo avete spoilerato voi stessi avete spoilerato perché l'immagine dopo è questa immagine dopo è questa questa è un'immagine credo che rimarrà iconica pertanto l'ho anticipato bene dicendo comunque anche prima dell'infortunio attenzione o forse era chi non mi ricordo chi di due anche prima dell'infortunio attenzione perché comunque qualche partita chiesa l'aveva saltata e comunque non era stato nemmeno così decisivo nella totalità per quello che poteva essere chiesa non era ancora ai livelli di chiesa c'è da dire anche che questa foto si per quote pure probabilmente sul discorso nazionale perché magari senza questa foto vai al mondiale magari non lo sai non lo saprai mai sono le classiche domande a cui non avrai mai risposta. Sì però chiesa in quel classico in quella classica partita con la Macedonia il giocatore che ha l'estero e la la carattura e la forza mentale. Anche se non avesse avuto l'estero uno con la fame di chiesa il pallone che arriva a Berardi a porta vuota ti butta giù la porta. Quella foto lì quanto ha impattato sulla stagione della Juventus? Tanto perché va molto in concomitanza con quella precedente dell'uomo senza maglia. Era partiti con una Juventus che doveva essere trainata sulla falsa riga dell'anno precedente dei vari chiesa Ronaldo chiesa non l'è avuto praticamente per tutta la stagione come detto prima tra le 12 partite il crociato Ronaldo l'è avuto per mezz'ora neanche per 90 minuti esatto per meno anche di mezz'ora e di punto in bianco ti sei ritrovato senza i trascinatori dell'anno prima che nonostante i trascinatori se non era per un suicidio del Napoli non andavi comunque in Champions League. Certo. Quindi da quel punto di vista sai prima Ronaldo che ti scombussola l'ambiente e all'ultimo devi fare un mercato un po' improvvisato senza ombra di dubbio. In più dopo qualche mese dove non c'è stato secondo me un utilizzo impeccabile di chiesa comunque ti ritorna dopo i problemi gol dell'1-1 contro il Napoli assist a Paolo Di Bala contro la Roma dove comunque nel giro di cinque giorni quelli che erano bene o male vuoi non vuoi ti ha fatto un gol e un assist che ti fa capire quanto nonostante quest'utilizzo non impeccabile se un giocatore fondamentale ti finisce la stagione. Il 2022 è stato davvero con chiesa cioè era l'uomo del 2022 era l'uomo che ti aveva permesso di sbloccarla prima dell'infortunio sempre. Fino a quel momento senza ombra di dubbio sì c'erano state due partite contro Napoli dove ha fatto gol e l'1-1 momentaneo con la Roma che ha fatto assist. Ma hanno sognato anche col Milano sbaglio. No 0-0 col Milano. E quando è quella parte? Ah poi col Milano si era già rotto il crociato il Milano è stato. No io parlo torna dietro. Ah l'anno scorso l'anno scorso doppietta. L'anno scorso doppietta. Mi ricordavo la combinazione con Di Bala ancora come se fosse io. Ah sì sì era l'anno prima. Era l'anno scorso sì sì sì. No più che altro sai che cos'è che adesso quest'anno con l'infortunio tu riparti l'anno prossimo riazzerando le aspettative su chiesa perché devi capire un po' come risponderà anche a questo infortunio. Anche perché ancora non si è molto capito quando effettivamente c'è la vatico. Un'altra cosa è che non hai potuto neanche far fronte e tamponare con la presenza di Di Bala spesso e volentieri. Secondo me hai come direbbe il buon buffa in quel famoso video in cui parla di Allegri demineralizzato ulteriormente l'attacco, la fase offensiva con estro creatività e forza. Minchia perdi Ronaldo. Chiesa a volte non hai disposizione di Bala. C'è da buttarsi in un fosso. Se sei un allenatore. Hai parlato hai fatto vedere delle foto che secondo me hanno portato a delle lunghe riflessioni la Juventus su questo aspetto. Perché ti accade l'infonderabile e non hai continuità. Cioè nel senso ti accade un infortunio come quello di Chiesa che ovviamente non è calcolabile. Non è un infortunio muscolare non hai uno storico di infortuni che ti dice tac quel giocatore tre mesi non ce l'hai all'anno. Come McKennie. Lo stesso tipo di infortuni McKennie. Questi infortuni qua secondo me portano la Juve a ragionare ma quelli che ho in rosa mi danno garanzia di sostituzione a questi qua. E' quello secondo me che ha portato. E' l'infortunio di Chiesa che banalmente ha fatto fare una retromarcia incredibile alla Juventus sul piano di Bala. Perché poi lì non ce l'hai in disposizione. Perché dovrebbe essere addirittura al contrario. Eh sì ce l'hai e te lo tieni stretto perché quando ce l'hai in realtà dici sai che c'è io devo pagare tanto uno che non mi dà l'idea di uno che c'è integramente dal punto di vista fisico e mi può sostituire una perdita come Chiesa io non posso permettermi questo tipo di investimento. Credo che sia stata questa banalmente la riflessione fatta dalla società. Time skip da quella partita lì con la Roma c'è il mercato invernale ci sono delle cessioni ci sono degli ingressi cambia la Juve ma di questo abbiamo già parlato prima quindi non mi soffermo su Blauvic perché sarebbe banale lo sappiamo. La prossima foto è questa. Avreste mai pensato di vedere il Villareal festeggiare a Torino per 1-0-3 al quale purtroppo eravamo presenti tutti e tre un gol a testa ci hanno fatto. Uno per uno. Uno per uno l'abbiamo preso nel culo tutti quanti allo stesso modo. È una testa dai ci suddividiamo il male a quel punto. La domanda è quella partita lì quella partita lì che ripercussioni ha sulla Juve sarà motivazione o sarà abbattimento perché noi abbiamo fatto una sola una sola dopo la Champions come l'anno scorso dove abbiamo vinto a Cagliari tripletta perfetta di Ronaldo per poi perdere in casa col Benevento quella successiva. Ora ne abbiamo fatta una con la Salernitana abbiamo vinto quella dopo se tanto mi da tanto se ricalchiamo quello che è accaduto l'anno scorso e cioè una squadra che esce dalla Champions e muore nonostante Chiesa nonostante Ronaldo che ci sono stati praticamente sempre tutto l'anno. Ora faccio partire l'Eldo dai. Allora secondo me ci sono due modi di vederla. C'è una maniera assettica di valutare questa stagione si valutano gli obiettivi iniziali e quel che è stato fatto e da questo punto di vista l'esperienza in Champions della Juve sicuramente è stata fallimentare rispetto alle aspettative che avevamo. Parlo di esperienza in Champions in Europa non di stagione fallimentare in assoluto. Certo sono due scessioni. D'altro canto mettendo sul piano un po' le difficoltà della Juve iniziali eccetera vedendo un po' che abbiamo ricambiato per l'ennesima volta anche allenatore rispetto agli anni scorsi con Sarri e con Pirlo che cosa vedo? Vedo una sinergia e un'unione di intenti tra società allenatore che mi fa quasi pensare che questa annata qua nonostante abbiamo reso meno di quanto ci si aspettasse sia un'annata di ripartenza, una sorta di restart dove ci sono delle cose che iniziano e delle cose che vanno continuate. Intendo ovviamente il rinnovamento della rosa e quindi dico che questa esperienza i giocatori nostri ne dovranno fare sicuramente tesoro in attesa di una squadra ancora più forte e di un allenatore che sia in grado di migliorare in maniera importante insomma anche il gioco. Cioè io ti incastro questa stagione come un restart. Cioè io nella mia testa adesso vedendo un po' l'andamento della situazione, le difficoltà non posso non pensarla così. Ti dico che non è stata sicuramente bella, che è stata momenti funzionanti come questa partita, che in campionato si poteva fare di più, tutto quello che vuoi, che il gioco non è bello, però vedo veramente un tasto restart perché l'impegno della società a fare certi acquisti e l'impegno della società nel proiettarsi già in questa sessione estiva, escono già i nomi, sappiamo già insomma i zaniolo, il terzino sinistro, sono tutti nomi che ci frullano in testa già da marzo, c'è l'idea di costruire una Juventus completamente nuova. Quindi dipende da in che modo la si guarda. Sicuramente è stata una pessima esperienza per noi tiffusi, punto. Magari era un rischio calcolato, capisci cosa intendo? È stata brutta però secondo me poteva essere anche un rischio calcolato della dirigenza stessa. Io ti dico invece che in realtà non saprei come risponderti anche perché per esempio l'anno scorso è verissimo, c'è stata la partita contro il Cagliari, poi il Benevento, solo che quella volta non c'era la sosta delle nazionali. No, vero. E anzi si diceva oh adesso finalmente è che si avrà modo di fare una partita settimana, discorsi che sono tornati utili anche nell'ultimo periodo dove poi però le risposte del campo non sempre sono state meravigliose. Il più già c'è da vedere quello che sarà l'approccio degli italiani. Cazzo, mettici la Champions, una settimana dopo esci contro la Macedonia, cioè inizia ad essere pesante. E anche già per tutti gli altri comunque non sai perché tu di fatto ti svaghi tra virgolette dal contesto Juventus per quei dieci giorni prima di rientrare. Quindi non sai quello che sarà l'approccio effettivo perché ok tu hai avuto due o tre giorni salernitana e poi basta per dieci giorni fuori dall'ambiente Juve. Non sai quello che potrà effettivamente essere l'approccio. Può aiutare anche il fatto che con tutto il rispetto, dato che ce l'hanno messo nel culo, Juve-Benevento non è Juve-Inter. Certo. Però ovviamente non lo sai perché tante volte abbiamo fatto dei discorsi legati sì ma è un derby e però c'è la Champions. Non vinci né il Champions né il derby. Non sai mai bene quello che sarà l'approccio effettivo. Non sai come arriverai a livello fisico, a livello mentale. La speranza è che è un Juve-Inter. Quale partita migliore per? Ma tutte quelle volte che abbiamo fatto discorsi analoghi non sempre è andata benissimo. Esatto perché anche per esempio col Villarella mi hanno detto questo potrebbe essere un passaggio del turno che ti dà un pizzico in più di consapevolezza e si può fare qualche passo in più. Invece l'abbiamo fatto di passi sicuramente indietro. Però la risposta in campionato secondo me è stata buona. Dopo abbiamo vinto con una certa tranquillità. Neanche troppi patemi. Adesso c'è l'Inter. Sicuramente l'Inter dopo la sosta ti motiva tantissimo ad affrontare il migliore di modi. Oltretutto la partita di per sé non è che ha valore perché l'Inter. Ha valore anche di classifica. Tanto valore di classifica. In concomitanza c'è pure Atalanta-Napoli dove o allunghi o prendi. Io sono terrorizzato. Terrorizzato perché credo che sia necessario anche le stagioni meno felici assorbire qualcosa. Io l'anno scorso fino a Juve Benevento prima di giocare con Juve Benevento passatemi sopra calpestatemi prima di arrivare ad Andrea Pirlo perché io decido capisco che Pirlo non è più dato a fare l'allenatore della Juventus dopo che una due tre quattro partite un po' così con risultati ballerini dopo l'eliminazione della Champions mi portano a pensare attenzione perché se gestiamo i momenti difficili in questo modo diventa complicato con Ronaldo e con Chiesa. Quindi adesso entriamo veramente nel momento clou della stagione. L'avete detto anche banalmente voi l'Inter e la situazione di classifica. La riassumo. Se perdi con l'Inter da qui alla fine del campionato in Serie A non hai nessuna ambizione se non difendere il quarto posto ed è terrificante. È una prospettiva terrificante. Dall'altra parte se vinci... difficile dal punto di vista motivazionale tenere una certa attenzione per il risultato così. Ma banalmente Lello pensa... Diceva bene Puchino esci dalla Champions italiana esci dalla Champions esci dal Mondiale e te la giochi per arrivare al quarto. Cioè a livello psicologico proprio si sgretolano le certezze e parliamo di una squadra che due anni fa vincere lo scudetto con Sarri. L'anno scorso fino all'uscita della Champions io non ero uno che credeva nello scudetto perché non siamo mai stati dentro però l'input è stato adesso c'è solo quello e quindi dai andare e invece il declino. E come finisce questa storia con la quarta immagine che è questa. Ora vi ho fatto vedere Di Balla Ronaldo che non ci sono più, Chiesa che si è rotto, il 3-0 col Villareal e adesso lo scudetto sulla maglia dell'Inter. Non so quale di queste vi abbia fatto più male però c'è ancora più convinzione perché se è vero che l'Inter ha interrotto dieci anni di dominio, nove anni di dominio Juve con quello scudetto che c'ha sul petto, se perdi tu sei quasi finito a livello della Serie A ma se vinci li vai a buttare in un baratro terrificante e li mandi addirittura verso la quarta posizione e io non ci avrei scommesso un centesimo a gennaio quando Chiesa si fa male, quando c'è quella propria Chiesa un centesimo di poter arrivare a giocare Juve-Inter per il sorpasso al terzo posto nei confronti dell'Inter. Quindi la domanda per quanto banale ora è la seguente ma chi è favorito in Juventus-Inter? Beh guarda potrei dire che per la legge di grandi numeri questo potrebbe essere un vortice brutto perché la Juve viene da una scia positiva e l'Inter da una scia nefasta. Per quello che ti sono terrorizzato. Sai nel gioco delle porte girevoli potrebbe esserci il cambio no? Quindi bisogna stare molto attenti. Una partita io adesso dico una bestemmia. Secondo me se pareggiamo Allegri è contento perché sa che l'Inter comunque gli dai una mazzata sul morale all'Inter e comunque dici no noi siamo ancora lì dietro, c'ha quel tipo di ansia, perdono punti ancora dalla vetta, noi secondo me siamo io sono però dell'idea di sottolineare una cosa, io non lo sarei. Neanche io, no 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 io ti sto parlando, io mi medesimo nel calcolatore Allegri che conosco, che conoscevo. Io ti dico sono d'accordo se Allegri davvero non crede allo scudetto. Cioè se Allegri pensa davvero che l'obiettivo è il quarto posto lui è un pareggio firma. Se invece Allegri... Anche se farebbe bene ad alzare sempre la sticella, come hai detto tu, perché dal punto di vista motivazionale è brutto dire ragazzi entriamo dentro per un pareggio perché poi sai che noi finisce. Certo. Juve-Napoli 1-0 Koulibaly. Certo. E finisce in quel modo là. Certo. Se non la giochi bene finisce in quel modo. Perché non sei quella squadra lì, peggio. Esatto. Perché quella squadra lì poteva anche quasi permettersi di fare un ragionamento di quel tipo a poche giornate alla fine. La fortuna ragazzi è un'altra cosa che non avete evidenziato, che avete solamente detto, gli italiani sì dal mondiale è, fortuna vuole, ve lo posso dire adesso, faccio quello che scappa dal carro nazionale, ma in realtà fino a un certo punto non c'era nessuno di noi direttamente coinvolto in capo. Beh, c'era Chiello. Vabbè, ma Chiello è entrato dieci minuti, dai. Ma se la vincevi non era grazie a Chiello. Cioè, mettila così. Non avevi Chiesa, non avevi Locatelli che stava giocando al primo minuto e questo secondo me sgombra un po' di pensieri cattivi e di scorie che invece altri giocatori avranno. Un Barella inevitabilmente avrà questo. Bastoni. Bastoni. Sicuramente saranno dei giocatori dal punto di vista emotivo più feriti di nostri. Cioè, mia opinione personale, poi sono deduzioni, sono ipotesi. Quindi traduco, traduco, per la legge dei grandi numeri è avvantaggiata l'Inter perché è un pezzo che non vincono, invece noi è un pezzo che non le perdiamo e quindi... No, può succedere di tutto, perché veniamo da... Tripla. È da tripla, è da tripla, ragazzi. Perché poi le emozioni lì... Bisogna sgombrarle, bisogna giocare a calcio, pochi cazzi. Se ti fai calcare addosso... Però io ve la ribadisco, cioè, ve la rimostro perché siamo qua che da pari, da tripla, cioè, questo è solo scolto sul petto e noi siamo nel momento peggiore degli ultimi dieci anni. Capite quanto è sottile questa linea? Cioè, siamo qua perché se l'Inter perde, lo scoletto l'ha perso. Cioè, se l'Inter perde, lo scoletto non vince più. E cosa vuoi di più dalla vita? No, ti sto facendo ragionare sul fatto che noi siamo qua che, oddio, disperati, abbiamo cambiato qui e là, questo morto, la stagione fallimentare, però in Italia, l'Inter campione in Italia in carica, se perde contro noi domenica a casa nostra, non si riconferma campione. Nel momento migliore degli ultimi dieci anni loro. Cioè, il momento migliore è loro e peggiore è nostro, si intersecano in una partita che non è una partita, è qualcosa. Sarebbe figo, sarebbe figo mettere fine perché, a riprova del fatto che la Juve in questi anni abbia andato prescontato tanti scudetti, nella continuità, no? Nuovi scudetti, ormai ci sembravano ormai scontati, dovevano darceli quasi a inizio campionato. Perché eri troppo avanti, non pensavi di poterci. Però adesso loro cosa hanno fatto per raggiungerci? Hanno fatto un all-in della Madonna e sono stati costretti a vendere poi quest'estate due pedini importanti, perché a Kimi e Lukaku, parliamoci, fanno tutta la differenza del mondo. Hanno rattoppato bene e han tenuto botta fino a qualche giornata fa. Poi non so che cosa stia succedendo là, né se tantomeno non me ne frega nulla. Fatto sta che dargli l'ammazzata finale, signori, è la giusta vendetta dopo che ci hanno scucito lo scudetto. Cioè, io credo che più motivazioni di queste... Hai la classifica, hai la voglia di riprenderti la posizione e di scavalcarli, anche se a loro manca una partita e sappiamo benissimo. Però intanto gli dai anche un'ammazzata morale, oltretutto. Sei tu che gli metti fine al sogno scudetto, sei tu che vai a ridimensionare questo progetto Inter volto alla continuità della vittoria in Italia, signori, cioè è una magra soddisfazione dinnanzi a un campionato sicuramente a vario di emozioni per noi Juventini, dove sicuramente ambivamo le prime posizioni. Tu aggiungo un'altra cosa. Tu potenzialmente potresti anche essere a meno uno dal Napoli. Infatti, guarda, Kino, sei andato un pelo avanti perché la domanda che vi faccio è questa. Vi do la mia risposta prima, così provo a mettervi un po' più a vostro agio. La domanda è questa. Se la Juve vince con l'Inter e il Napoli non vince con l'Atalanta, si può parlare di scudetto? E io ti do la mia risposta. Io ti dico di sì, perché io sono dell'idea che se l'Inter vince contro la Juve è la favorita per lo scudetto. La favorita. Sì, anche perché proprio a livello di calendario sarà messa abbastanza bene, riprenderà fiducia. Se vince la Juve e non vince il Napoli, al di là di quello che farà il Milan, io mi sento dentro la lotta scudetto, che non significa che lo vinceremo, ma mi sento dentro la lotta scudetto. Cioè, se devi mettere il fiato sul collo inizialmente. Non so se concordate questa cosa. La matematica è che deve… Di sicuro, se lo vinciamo noi, non siamo stati più meritevoli, ma me ne foto altamente. Nessuno è meritevole quest'anno, intendiamoci. Quest'anno lo vince chi sbaglia meno da adesso in avanti. Cioè, chiunque lo vinca ha meritato. Non so se guardate la Formula 1, ma a me ricordate un po', c'è questo campionato, c'è una curva dell'ultimo Gran Premio di Jedda, dove c'è Leclerc che inchioda per farsi solo passare da Verstappen e avere un vantaggio. A me sembra che tutte stiano facendo così, solo che ovviamente il vantaggio non lo tieni in realtà. Si stanno tutte gambizzando da sole. C'è il Milan che perde tanti punti, adesso li trovate un filotto positivo. Il Napoli che ha preso tanti punti ha avuto anche diverse assenze e diversi alibi, per carità. Però adesso sta riniziando un filotto positivo. La Juve in un filotto positivo già da un po'. Atalanta che si è un pelo persa qua e là, l'Inter si è persa tanto, però sai uno sgambetto là adesso la classifica si accorcia. Cioè, banalmente la traduco, secondo me quella di domenica è la classica partita che cambia la stagione. Perché la vinci, entri di diritto nella lotta scudetto, la perdi, rimetti loro di diritto come favoriti per lo scudetto, la pareggi, rimani lì nel mondo di nessuno e vedi come si evolve. Però, ovvio che questi tre punti, che possono essere sei per uno o per l'altra, riescano di cambiare la storia di come poi ti ricorderai questo campionato stesso, non questa partita. E' un'altra cosa, il Milan è l'unica che potrebbe goderne, però attenzione, attenzione. Però nel breve periodo. Ma in casa del Toro, che anche là è una di quelle partite da non prendere sotto gamba, chiedere all'Inter informazioni. No, è col Bologna. No, è col Bologna. E allora è la prossima col... Ma anche a noi, anche a noi chiedere informazioni. E ad ogni modo... Anche a noi, anche a noi. Cioè, il Toro è una squadra ostica che con le grandi praticamente tende quasi a dimostrare tutto il suo valore, magari perde partite per cagare. Però poi perde col Venezia, sì, sì. Sì, sì, però il Toro è la prossima. Sono in casa. Cioè, Torino-Milan è la classica partita che... Cioè, il Milan magari potrà goderne di questa settimana calcistica. Però occhio, perché anche lì c'è la buccia di banana. Certo. Non bisogna scivolare. Ragazzi, serve un finale di stagione. Noi abbiamo fatto 15 partite con questi risultati qua. Ecco, ne servono altri fino alla fine così. Punto. Cioè, poco da... Perché occhio, occhio, perché questi risultati si associano all'ultima slide che ho preparato e qua ci sarà un attimo da guardarsela bene, perché è particolare che è questa. Oddio. A sinistra la classifica alla quarta giornata di campionato. A destra la classifica attuale. Al centro, scusa. A destra la classifica dalla quinta giornata in poi, con in giallo i numeri 1, 2, 3, 4, come sono oggi. E invece in verde di come sarebbe la classifica dalla quinta giornata ad oggi. Quindi la Juventus avrebbe fatto 57 punti, sarebbe prima, il Milan 56 punti, sarebbe secondo, il Napoli 51 sarebbe terzo, l'Inter 50 sarebbe quarta e così via. Vi invito, in questo riassunto, a fare la sottrazione delle caselle verdi e gialle, quindi di quella che è la classifica attuale e di quella che sarebbe stata. Se guardate bene o male, per dire Atalanta, Roma e Lazio sarebbero quinta, sesta e settima, con la classifica totale e con la classifica dalla quinta giornata ad oggi, anche le ultime tre, quindi vuol dire che fa zero, perché 5-5 fa zero. Se facciamo tutte le sottrazioni, Napoli fa uno, il Milan fa uno, l'Inter fa uno, la Juve fa tre e vanno tutte da zero, uno o due, la Juventus è l'unica che ha tre, che significa che sono tre posizioni di differenza rispetto alla classifica totale. Quindi è l'unica squadra che veramente, in questo momento, non è nella situazione che si merita, prendendo la totalità del campionato. Quindi si attacca al discorso che facevamo prima. Vedendo questa specifica tabella, che sono la giornata di campionato alla classifica senza le prime quattro, sono tutte le altre che dovrebbero avere paura di giocare con la Juve. Eppure io sono qui, nella situazione, nonostante tutto questo, che mi sto cagando addosso, perché ho paura di andarmela a giocare contro un Inter, non ho vergogna di dire che mi sto cagando addosso, contro un Inter che in questo momento è in difficoltà, che dalla quinta giornata sarebbe quarta, proprio per quello che dicevamo prima. Se perdiamo è finita, ma dall'altra parte se la vinciamo, ragazzi, questo finale del campionato, se la vinciamo a questa partita è allucinante, è allucinante. Poi adesso, ragazzi, possiamo preparare le partite settimana dopo settimana. No, non dirlo. Non dirlo. Non dirlo. E vabbè, ci uniamo anche noi al gruppone delle altre. Però sì, dipende dalla classifica. Le altre bisogna chiedere, bisogna aspettare che cadano le altre. Con l'Inter io voglio vincere, perché sarebbe l'unico scontro diretto che abbiamo vinto quest'anno. Al di là di un eventuale ingresso scudetto, cioè proprio vincere uno scontro diretto. Minchia. Cioè l'hai perso, l'hai pareggiato, uno vince l'altro. Sì, perché poi, in virtù del pareggio dell'andata, anche in caso di parità di punti, perché ricordiamo sempre che l'Inter ha quella partita da rimontare, da recuperare, in caso di parità di punti tu li stai sopra. Sono quattro punti virtuali. Eh, esatto. Che non è poco. Che non è poco. Io vedo tanti interisti che sono convinti di vincere, da me fa piacere. Anche a me. Benissimo così. Se siamo convinti loro, a me sta bene. A me piace quando la Juve parte da underdog, perché tutte le volte che siamo partiti da, vinciamo, 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 la prendiamo sempre nel posterio. Vi ricordo, col Napoli, che avevano un sacco di assenze, ah, col Napoli, col Napoli così, pareggio. Ma non più lontano, ragazzi, i due esempi che abbiamo fatto prima. Juventus-Villa-Real e Italia-Macedonia. Cioè, che non c'è altra soluzione se non passare e sei uscito tutte e due volte, in casa tua, tutte e due le volte. E attenzione che questo potrebbe essere ancora, che giochi a Torino. Eh sì. E mi auguro che Allegri faccia lavorare meglio la squadra, ha più tempo adesso per lavorarci, per fare delle situazioni, per studiare determinate cose. Sicuramente questa squadra, al di là di un potenziale che spesso viene sopravvalutato, eccetera, può sicuramente comunque dare di più rispetto a tutto ciò che abbiamo. Certo, però oggi come la prepari? Cioè, come lo gestisci il gruppo? Io non so darti la risposta, perché ovviamente non ho mai allenato a questi livelli, non ho mai allenato in generale, ma il gruppo lo pompi cercando di ricaricarlo e dirgli, oh ragazzi, cioè, se vinciamo con l'Inter, oppure gli dici, ragazzi, gli altri sono più forti, dobbiamo fare il nostro e sperare che basti. Cioè, segui la linea del, oh vabbè, loro sono campioni in Italia e noi alla fine dobbiamo arrivare a quarti, oppure la linea di, li massacriamo e però dopo ti carichi la squadra e allora poi se cadi fa ancora più male, perché è difficile questo. Allegri, Allegri è un gambler, scommette sugli altri. In questo momento sta scommettendo contro anche se dice che scommette. Per forza, per forza, cioè non c'è altra possibilità. Che da questo punto di vista, lui è conscio delle qualità che ha questa squadra e sicuramente sa che ci sono altre squadre che sono più effettivamente, più pronte di noi a vincere lo Scudetto per una certa continuità di risultati che hanno avuto specialmente all'inizio campionato. Però scommette contro, a voglia che si scommette. Quindi, come agisì... C'è sempre di dire che l'Inter deve vincere lo Scudetto, ma quando non ha smesso di dirlo sono sprofondati e continuerà a dirlo. Però un contro è quello che dici ai microfono, un contro è quello che dici alla squadra. Appunto, lui toglie di dosso la pressione e vuole andare a fare i spenti là eventualmente a giocarsela. Però figurate se non ce l'hai il pensierino là. Anche il fatto che metta la soia Scudetto sempre un punto sopra dove può arrivare la Juve. Un punto, non due, tre. È un bastardo, è un grandissimo bastardo. Cioè, là basta, capito? Dice, noi possiamo arrivare fin qua, punto dopo è Scudetto. Cioè, è una bastardata in realtà. Chino, come la gestisce secondo te? Entrati in campo e fategli il culo. Sì? Così proprio. Ah, lo devi fare. Eh, non lo so, io non riesco a darmi la risposta. Devi fare nient'altro. Poi, oh, non ce la fai, eh? Poi dopo, ovvio, dopo tutte le varie tattiche, eh? Se le studiano, ci lavorano, ci mancherebbe. Va prima di partite del genere solamente proprio per quello che vale. Quindi stiamo smentendo quello che abbiamo detto prima e cioè che forse anche Allegri sarebbe d'accordo per il pareggio. Cioè, perché sta tutto qui. Se Allegri è onesto davanti alle telecamere, cosa che io non credo, perché secondo me è falso come una moneta da 5 euro, lui non la prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di pareggiare. No. Se invece lui è onesto, il suo pareggino gli va benissimo e dice, vabbè, sti cazzi, stiamo qui, galleggiamo. Quindi la domanda è, Allegri è onesto o è disonesto davanti alle telecamere? No, è disonesto. E siccome è falso, come Giuda. Quindi il pareggio... Tutti no, ma la maggior parte. Lui ha maggior ragione, cioè lui proprio... Non credo che sia felice di un pareggio in realtà. Credo che nell'ottica di un campionato se lo fa andare bene e che mediaticamente non dirà mai. C'erano stati dei coglioni. Dirà... È un punto guadagnato. Ma perché Allegri non ragiona sulla singola partita, eh. Cioè, ragiona da qui alla fine. Cioè, le mette tutte insieme e sa che sono tot punti, che arrivi con l'Inter, che arrivi con quell'altra. Però è vero che con l'Inter sono sei punti che possono essere addirittura sette, per quello che dicevamo prima. C'è una partita da sette punti. È l'unica occasione che hai di tornare davvero dentro. Per quello che ti dico io. Io lo scolto non ci credo, ma se vinci domenica con l'Inter e Napoli non vince. Cioè, Allegri stesso, non so con che faccia si presenterebbe davanti ai microfoni e dire no, beh, noi nello scudetto non ci siamo. Cioè, sarebbe veramente una follia. Dopo ovviamente ti direbbe adesso che siamo terzi, guardiamo al Napoli, siamo sotto al Napoli. Però è ovvio che se dai... Eh no, dirà anche, guardiamoci dietro. Guardiamoci dietro, dirà anche della serie, vediamo un po' dove saremo. Guarda, io spero di vincere solo per sentire cosa cazzo si inventa. No, io spero per almeno andare a letto tranquillo dopo un big match, dico la verità. Hai ragione. No, però sai come lo direbbe, no? Lui col sorriso, gli ride qualsiasi cosa e poi ti dice proprio tutto il contrario. Perché si vede quando ti dice una puttanata Allegri? Cioè, lo si capisce, lo si percepisce. E va a palesce, è evidente. Quindi mi piacerebbe capire che cosa cazzo si va a inventare. Niente, spero di aver alzato abbastanza il livello dell'ansia anche nei vostri confronti perché è davvero... Facendo bilancio, al di là della Champions, quando abbiamo fatto queste cose nelle soste, ha portato bene? Sì o no, ci devi fare anche... Io voglio una tabellina su questi video post e vedrei se ha portato bene. Ve la preparo, ve la preparo. Nel 2022 no. No, sulla Champions no, sulla Champions no. Eh ma niente di campionato, perché metteci anche qui due punti contro il Toro. Ma un campionato se devi guardare nel complesso è andata bene probabilmente. No, nel complesso io dico, non è che possiamo guardare la partita successiva. Beh ragazzi non so se vi ricordate... Anche se questo è l'Inter però... Ragazzi siamo arrivati a un punto, quando le cose andavano male, a dire io firmo per arrivare in Champions. Sì, ma mi ricordo che veniva fuori la tabella su quello che sarebbe dovuto essere il percorso, credi, dovevi vincere tutte. Adesso sei o più otto. E ci credevi? No. 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 Perché io lo consideravo veramente utopia arrivare in Champions a un certo punto, eh. Ma proprio... Vabbè, dopo che usi? Dopo Venezia mi pare. Dopo Venezia. Dopo Venezia. Poi mettici anche i pareggi contro Milan e Napoli. Quelli... Lì Allegri secondo me l'ha letta molto bene, dicendo se tu non perdi con loro, poi sono cazzi loro che si devono scontrare tra di loro. E infatti il Milan e il Napoli si sono presi tre punti una volta, tre punti l'altra. Se ne ha metto una testa. Quindi dopo li hanno spalmati abbastanza. Dopo Venezia io sinceramente avevo completamente perso l'ambizione di poter fare qualcosa quest'anno. Anzi, temevo... temevo proprio papale papale. Quindi secondo me, dal mio campionato, ci sono andate bene queste chiacchierate. Champions, ragazzi. Cioè, bisogna fare una macumba sulla Champions. No, comunque per rispondere alla tua domanda non mi hai messo ansia. Cioè, sincero. No, no, ok. No, di solito, ultimamente non la sento più con così tanto anticipo. Io ho le mani fredde adesso. Già verso sabato mattina, qualcosa, domenica, partire dal primo pomeriggio sarà disastro. Ma fino al weekend, fino all'arrivo concreto del weekend... Bravo, anche io sono così, ma mi avete visto anche a... Cioè, io inizio a montare l'ansia nell'immediato pre-partita, cioè nel pomeriggio. Non giorni prima, non riesco. Quando non hai un cazzo da fare che pensi solo a quello. Tipo già, per esempio, domenica ci sono le moto. Anzi, ancora più bello che alle 8 c'è la MotoGP, finisce alle 8.40, alle 8.75 la Juve. Sarà che bello. No, io ragazzi, io sono una bomba. Io la sto... Ci sono delle partite in cui veramente metto tutto dentro, tutto, tutto me stesso. E quando vinci è una goduria che... Porca vacca, che bello. Quando perdi... Villereal, mi avete visto? Io non ho parlato fino al giorno dopo. No, ragazzi, dovete capire... Cioè, a parte che io sembravo un menefreghista di prima categoria, ma perché l'ho detto. Tu sembrava che non mi piace niente. Sì, negli anni io ho fatto una rezione di Mayard alle sconfitte e quindi dentro riesco a proteggermi, no? Da quell'alone... Io, te l'ho detto, secondo me io pianto tutto quello che dovevo piangere a fine anni 90. Adesso io reagisco subito alle... Secondo me è una questione di autodifesa che ho creato nel tempo. Probabilmente sì. Pare che a furia di perdere in Champions League, ragazzi, quando avevo sei anni a oggi... Cioè, ci ho fatto veramente i calli. E quindi... Sì, mi incazzo, ma poi mi passa anche perché tanto... Io ero devastato. Proporzionato può essere come quei ragazzi un pochino più giovani che dopo la notizia di Dybala... Certo. Vedono il buio totale, ma ci mancherebbe altro. Sono esperienze che magari Lello ne ha vissute ancora più di me, io ancora più di questi ragazzi. Beh, ragazzi, io credo che per noi Conte, l'addio di Conte così, sia stato a peggio di quella... Cioè, sia stata paragonabile a quella che molti stanno vivendo ora per Dybala. Sì, però più che peggio è stata la tua prima, la tua prima coccente. Io metto Conte e Ronaldo sulla stessa linea, con peggio Ronaldo perché è stato veramente all'ultimo. Però li metto insieme. Li metto proprio insieme quei due lì. È così, è così. Sono esperienze che ti forgiano e che ti fanno anche, secondo me, ti aiutano a metabolizzare un pochettino, tutte quante, queste addi, le sconfitte. No, molto dipende anche proprio da come approccia la squadra del cuore quel tifoso, perché anche qui ci sono diecimila sfumature che a prescindere da quello che hai vissuto puoi prenderla sempre allo stesso modo o puoi prenderla sempre... Ma è una cosa che ti dico, Luca. Vai, vai. E anche Kino, cioè, non so che cosa succederà quando la vinceremo. Cioè, personalmente non ve lo so dire. Non arrivo al giorno dopo. Se io so già che cosa succederà in caso di sconfitta, perché sarò effettivamente come mi hai visto a Villareal? Così. Tanto ormai... Che ci rimugino, però me la lasciano andare giù. È così. Riesco a buttarla giù. Però la vittoria... Secondo me rischio di finire arrestato in qualche carcere messicano. Il problema, però, è che qui molto dipende anche da Agnelli, dalle varie corte, perché, sai, non sai quanto tempo effettivo ti rimane se la vuoi ragionare, no? Ma, guarda, se tu vai a vedere il post che ho fatto in community... Non l'hai vinta con questo. A posto. Il day after ho fatto un post, una foto, cioè, alla notte, non so. Però, per quanto vivrò, se avrò la possibilità di vedere un'altra Champions, lo spero. Però... E tu l'hai vista. Cioè, il punto è che tu l'hai vista. Eh, ma... Cioè, vuoi parlare di 10 anni. Quando mi sono vincita da bambino, rispetto a come me la posso vedere da... Aspetta, tu quanti anni hai, Lello? 8 anni. No, aspetta, nel 96 avevo 8 anni. Eh, ok. Beh, a tutte io non ero nato. Sì, però, ragazzi... Si stava bene, infatti. La Juve vinceva la Champions, non c'era Kinoshi. Ma che mondo spettacolare era! No, ragazzi, voi vi siete persi, secondo me, dal punto di vista della comprensione del calcio e... Quelle partite con lo United di Sir Alex Ferguson, cioè, quella roba là, quella grafica in quattro terzi della Champions, con le scritte bianche su canale 5. Cioè, quella roba là, è tutta qua. A dire, Lello, non puoi essere neanche colpa mia. Io ho iniziato a seguire la Juventus davvero, la tifoso, in Serie B. Il mio primo anno è stata la B. Credo che sia stata la mia più grande fortuna. Perché tutto quello che arriva è apprezzato all'ennesima potenza. Ma proprio, cioè, il primo scudetto per me è stata una roba... La prima finale di Champions è stata una roba che dici, ma se... Ma c'è, io ho iniziato a vederla in B. Cioè, io l'ho vista crescere, della serie l'ho vista crescere. Quindi, per me è stata una magia. Non so, diversamente, che rapporto avrai con il calcio. Mondiale e Serie B mi sono fatto. Cioè, vinto il Mondiale, Serie B. Vinto la B. Ma chi palmarese è? Prima vinci il Mondiale, vinci la B. Chi palmarese è il mio. Bellissimo il Mondiale, me lo ricordo benissimo anch'io, perché avevo 18 anni. Anch'io, quello anch'io. Spettacolo, ragazzi. Io ero piccolino, eh. Però, cioè, io di vittorie sconfitte... Io ricordo più le sconfitte, in realtà, più delle vittorie. Poi ricordo benissimo il 5 maggio. Quelle vittorie... Anche perché vincere non è bello, tanto quanto è brutto perdere. Siamo d'accordo. Dai, abbiamo toccato più argomenti. Chiudiamo, perché siamo a 45 minuti registrato. I ragazzi non saranno mai arrivati a questo punto, ma chi è arrivato a questo punto lo invitiamo. La peggior sconfitta e la miglior vittoria che avete fatto, raccontatecela qui sotto. I contatti di Kino e di Lello sono ovviamente in descrizione nel titolo. E speriamo di avervi messo un po' d'ansia, un po' più rispetto a Kino. Fatemi sapere se siete bombe come me, o me ne freghisti come Lello, che ormai c'ha la scorsa. Sì, 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 però posso dire che la mia reazione potrebbe essere molto simile a Inter-Juventus 2-3. Ah, ok. Cioè la reazione che potrei avere nell'immediato è quella, poi vabbè dopo mi do alla birra tranquillamente, alla macchia per una notte intera. Che altro io e Lello siamo a diesel. Noi ci accendiamo all'ultimo, ma poi una volta che siamo accesi dopo è finita. Ma pensa io che inizio a pasturarmela invece a giorni e giorni e giorni. Ma quella a me di solito fa l'effetto opposto, perché poi arriva il momento in cui ne ho talmente tanto che non vedo l'ora che finisca perché non ne posso più. A me fa quell'effetto, non so cosa farci. Cioè banalmente ieri sera abbiamo perso con gli amatori, abbiamo perso 2-1, abbiamo preso il gol dopo un minuto che sono entrato in campo tipo Chiellini. Avrei picchiato uno che alla fine ho dovuto insultare l'arbitro perché ha fischiato un fuorigioco che non c'era, gli ho urlato in faccia, avrei picchiato. Perdere proprio una sensazione che... Quindi dai, speriamo di vincere con l'Inter che sarebbe... E tu, Lu, hai visto una Juve increscendo. Cioè dalla Serie B, come hai detto, l'hai vista dall'inferno, risalire, vincere e convincere. A un passo in paradiso. Io ho visto anche la Juve vicina a toccare il cielo con un dito e poi cascare a terra in maniera abbastanza rumorosa. Quindi le finale di Perse e quelle là, io ragazzi me le ricordo come se fosse ieri. Quindi ci sta. Alla fine è tutta esperienza e si impara anche a... Infatti molti mi dicono che cazzo fai... Oh, quando c'è il sedere così è normale che dopo non siete più nulla. Scusate. Ragazzi un abbraccio, mi sembra un piacere condividere gioie e dolori. Ciao belli. Ormai sono dolori. No, non è vero, non è vero, non è vero.